Benvenuto in questa guida rapida al bonus casa per il 2024. Sono Yuri della Meridiana Immobiliare e sono qui per aiutarti a navigare nelle acque delle nuove normativi fiscali. Nel 2023 gli investimenti con detrazioni fiscali hanno superato i 92 miliardi di euro e ora ci aspettiamo alcuni cambiamenti importanti. Sì, perché la legge di bilancio 2024 porta una ventata di cambiamenti. Per fortuna alcuni dei nostri amati bonus rimangono i variati. Il bonus ristrutturazioni, il bonus barriere architettoniche, il sisma bonus, l'eco bonus e il bonus verde continueranno a supportare i vostri progetti immobiliari con generose detrazioni fiscali. Ma attenzione alle novità, Superbonus subirà una riduzione passando dal 90% al 70% nel 2024 e poi scenderà ulteriormente al 65% nel 2025. Anche il bonus mobili vede un cambiamento con la spesa massima ammissibile che si riduce da 8.000 a 5.000 euro. E per quanto riguarda i bonus che saranno cancellati, addio al bonus case green e al bonus acqua potabile tra gli altri. Contattaci, possiamo fornire il tuo supporto di chi si occupa di ristrutturazioni, mutui e di tutti gli aspetti legali, formando un team che ha come unico scopo la tua completa soddisfazione.